Lavoro in corso al castello per l'imminente pedonalizzazione. Il divieto di accesso alle auto scatterà da martedì 22 aprile. Gli operai sono al lavoro per mettere in sicurezza il tracciato del tram, modificare i sensi di marcia a lanza, eliminare le strisce blu in foro buona parte in modo da creare un'ulteriore corsia di marcia per la strada che dovrà sopportare un aumento di traffico. Cambia forma anche la rotatoria di Cairoli che collegherà via Dante con le piramidi dell'Expo Gate e la nuova zona pedonale. Palazzo Marino ha dato il via libera definitivo al progetto. Ieri sera in consiglio comunale bocciate le proposte del centro-destra che chiedeva una pausa di riflessione. A settembre ci sarà una prima valutazione dell'impatto della pedonalizzazione. Intanto i vigili urbani annunciano sanzioni per chi non rispetterà i divieti di sosta nell'area in modo particolare in foro buona parte che catalizzerà la maggior parte del traffico delle auto che non potranno più entrare in piazza Castello. La pedonalizzazione porterà l'eliminazione di numerosi posti auto sulle strisce blu in modo da favorire i residenti con le strisce gialle. Allo studio incentivi per le autorimesse pubbliche e private della zona sono otto in totale e dispongono di 1600 posti. I tecnici dell'Agenzia Comunale per l'ambiente e la mobilità di Amat rassicurano i milanesi che grazie alle nuove modifiche non ci saranno problemi per il traffico veicolare.